Vai Davide comunque Davide comunque Mi sembra che non ti sia comprato granché Come no scusa eh Perché guardi in camera D'efficienza? Io sono la Guarda la cazzo Di roboli Questo Davide Comunque non mi sembra che tu ti sia comprato ancora granché Come no scusa Beh si però neanche tu eh E guarda qua Sei un deficiente Ma puoi guardarla? Davide? Tu me va a robar Mi peggio mi peggio Davide Davide? Eh? Comunque non mi sembra che ancora tu Ahahahahah Eh vai Davide? Eh? Ciao Comunque non mi sembra che ancora tu ti sia qui un patto Comunque Come scusa non ho capito Che regola? Dove sei eh? Non mi sembra Dai vai Davide? Eh? Comunque Davide Ahahahah Ahahahah Ah ma Grazie a tutti